La fine di questa pandemia troverà una società molto cambiata. Io credo che due sono i cambiamenti fondamentali che vedremo. Il primo si è velocizzato in maniera incredibile un processo che era già in atto. Con l'avvento dell'Industrial 4.0, ogni cambiamento, ogni rivoluzione industriale avviene graduatamente. Quindi c'era un cambiamento in progress, che era quello dello smart working e dell'acquisto via web. Entrambi questi due elementi sono stati velocizzati in maniera incredibile. Quindi al ritorno, quando ricominceremo a lavorare e quando questa pandemia sarà finita, troveremo un avanzamento incredibile di questi due modi di operare da parte della società. Quindi antropologicamente saremo cambiati. Il secondo è che ci sarà un cambiamento della scala valoriale all'interno dei meccanismi per cui noi decidiamo di comprare un prodotto. Saremo molto più attaccati a determinati fabbisogni, cambieranno i fabbisogni. Diciamo che al centro del sistema si è messo sempre di più l'uomo e il business e gli affari sono diventati meno importanti dell'importanza dell'uomo. Quindi questo cambiamento della scala valoriale, secondo me, induce un cambiamento dei processi di vendita. Dovremmo rianalizzare i nostri processi di vendita e dovremmo riengegnerizzare i nostri processi di vendita. Quello che io suggerisco è quello di prendere ogni processo di vendita e suddividerlo in tre fasi. Prima della vendita, durante e dopo. In queste tre frasi dovremmo andare ad analizzare che cosa accade e che cosa c'è nell'intorno di questo elemento. Perché molto spesso potremmo trovare dei fabbisogni che sono latenti e nascosti al di là dell'elemento fondamentale che stiamo trattando. Tutto questo ci permetterà di scoprire dei nuovi fabbisogni e ci permetterà di guardare il tutto da un'angolazione diversa. Io credo che questo sia un cambiamento fondamentale perché alla fine di tutto questo, con la fine di questa pandemia, le aziende che riusciranno a cogliere nel meglio la ripresa saranno tutte quelle aziende che riusciranno a superare lo status quo. Lo so che è retorica e che sembra molto banale, ma abbiamo sempre fatto così. È una minaccia incredibile. Gli imprenditori che sapranno buttarsi alle spalle quello che facevamo prima e sapranno guardare con entusiasmo, con la collaborazione dei propri collaboratori, il futuro, fatto in maniera diverso, faranno la differenza. Perché l'area di comfort dell'abbiamo sempre fatto così è un cancro.